La parola di Dio appena ascoltata comincia con una nota che potremmo dire di ammonimento. Attento uomo, attento fratello, attenta sorella, attenti. Quindi, attenti a dove riponete o in cosa riponete il vostro vanto. Di cosa pensate di potervi vantare? Di cosa pensiamo di poterci vantare? Forse della nostra saggezza, ma chi non sa quanto piccole e limitate sono le facoltà dell'uomo? Quanto poco possiamo riuscire a conoscere, nonostante il grande progresso della scienza e tutto l'impegno che possiamo metterci per apprendere? Se poi entriamo nell'universo interiore dell'uomo con i suoi affetti, le sue scelte, le motivazioni che spingono la volontà, e il suo cuore così misterioso e cangiante? Oh sì, dobbiamo cercare di essere prudenti e saggi, ma non possiamo certo confidare troppo della saggezza che riusciamo ad acquisire nella vita. Molte volte verremmo subitaneamente smentiti. Possiamo allora vantarci della nostra forza? Ma la forza fisica si va ben presto ritirando dalle facoltà umane in questo tragitto veramente breve che ci è permesso nella vita di quaggiù. E siamo poi ben consapevoli che anche la forza comunitaria o sociale tende ad essere usata spesso, troppo spesso. E siamo testimoni anche in maniera particolarmente disumana contro gli altri. forza per uccidere, per sottomettere, per dominare. Meglio non vantarci troppo della nostra forza. Allora potremmo vantarci della ricchezza, anch'essa però è effimera e a volte apertamente ingiusta per le disuguaglianze inaccettabili tra chi possiede quasi tutto e i più che soffrono disagi a non finire per l'impossibilità di accedere anche al minimo vitale. E poi, in ogni caso, ciascuno dovrà comunque lasciare tutto, ma proprio tutto di quello che ha accumulato alla conclusione della sua esistenza terrena, anche della ricchezza, meglio non vantarsi troppo. Di cosa dunque possiamo vantarci? Se vogliamo avere un po' di senno possiamo vantarci di conoscere il Signore. Se vogliamo avere un po' di senno possiamo vantarci di conoscere il Signore. Perché chi conosce il Signore sa con quanta benevolenza egli agisce nei nostri confronti, con quanta misericordia, con che tipo di giustizia e di bontà si propone a ciascuno di noi? È evidente. Conoscere il Signore non è solo un sapere intellettuale di Lui. Bisogna farne esperienza, cercare di accoglierlo nelle proprie scelte, nella propria vita. Lo scopriremo allora delicato e forte. L'unico vero bene. colui che misteriosamente ma efficacemente istruisce e guida e sta alla nostra destra perché non dobbiamo vacillare. Colui che indica il sentiero della vita e apre ad una eredità che non marcisce la vita eterna di gioia piena e di dolcezza senza fine. Nella sua preghiera Gesù benedice il Padre perché dice Gesù perché hai tenuto nascoste queste cose a chi si reputa sapiente e intelligente e le hai rivelate ai piccoli. diversamente dalle numerose e ingannevoli e a volte allettante proposte degli uomini Gesù ci indica la via per conoscere il mistero di salvezza del Padre. La via è farci piccoli di noi stessi per accogliere il Signore riconoscere la nostra povertà e la necessità che Egli ci venga incontro con parole di verità e di vita. Il bisogno che sia Lui a liberarci e salvarci. Padre Pio per tutta la vita è stato la lunga mano di Dio che accoglie i piccoli coloro che sono nel bisogno i sofferenti nel corpo e nello spirito coloro che portano pene nel cuore accogliere con impegno indefesso tutti. e quanti hanno potuto ritornarsene a casa avendo fatto intima esperienza che sono proprio vere quelle parole di Gesù venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro imparate da me che sono umite e umile di cuore. nella festa di Padre Pio chiediamo che egli interceda per noi l'amitezza e l'umiltà di cuore del Signore Gesù troveremo ristoro divino e scopriremo che il gioco di Gesù l'impegno a seguirlo rende la vita sensata e il suo carico lieve leggero così sia e l'impegno